ciao a tutti nuovo video della witchyoutube challenge siamo al numero 34 e la domanda di oggi è se potessi partecipare a un rituale reale o fantastico quale sarebbe che ruolo avresti allora se potessi partecipare a un rituale dunque mi piacerebbe tornare innanzitutto indietro nel tempo perché mi piacerebbe assistere da spettatrice a rituali che si compivano una volta quindi mi piacerebbe allora innanzitutto assistere a rituali in onore delle mie divinità assolutamente sì quindi mi piacerebbe tornare indietro nei diversi templi nei diversi luoghi sacri e vedere non lo so mi piacerebbe vedere durante le celebrazioni a ecate tutti assistere diciamo alle come posso dire all'offerta alla deposizione delle offerte ai crocivia sempre come spettatrice mi piacerebbe proprio fare tipo macchina del tempo ecco tornando indietro così oppure scusate mi piacerebbe vedere tornare indietro nel tempo andare ai vari templi di iside e vedere come innanzitutto come il popolo stesso adorasse iside perché iside era più una divinità del popolo che dei faraoni diciamo così e mi piacerebbe vedere la devozione delle persone semplici che non godono né di sfarzo né di altro però tuttavia si sforzano di trovare un'offerta buona e bella e decente per la divinità e mi piacerebbe vedere proprio questo rapporto mi piacerebbe tornare indietro vedere i rituali anche in onore di artemide oppure di pan oppure di anubis di nettuno e bla 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 insomma tutti mi piacerebbe anche visitare nei tempi d'oro anche templi che in realtà non appartengono a a mie divinità però altri così per sfizio per curiosità per interesse per passione per tutto quindi magari mi piacerebbe tornare indietro e visitare ad esempio il tempio delfi di apollo e vedere le celebrazioni e anche qui la devozione via così mi piacerebbe magari scendere nei sotterranei di roma e assistere a qualcosa relativo al mitraismo possibilmente togliendo la parte del sacrificio del toro perché quella non mi piacerebbe tantissimo però per il resto mi piacerebbe oppure mi piacerebbe assistere proprio anche a livello più pratico alla stregoneria di al culto di annaperenna a roma molto legato alla stregoneria romana sono stati fatti diversi ritrovamenti infatti dedicate di diciamo di medagliette possiamo dire così con da una parte una devozione ad annaperenna e dall'altra la maledizioni fatture verso qualcuno e via così quindi il culto diciamo stregonico più che altro di annaperenna poi mi piacerebbe visitare sempre i tempi d'oro ad esempio sonage oppure andare al luogo dove si dice appunto che fosse il noce di benevento oppure andare a tornare indietro un tempo conoscere le streghe di triora per esempio oppure ancora farsi semplicemente non so come dire un'idea all'interno di villaggi antichi sempre dei rituali semplici della gente semplice gente che non era sacerdoti e via così però rituali comunque in onore delle divinità e via così offerte banchetti e chi piavina mette e si prevalentemente mi piacerebbe fare questo quindi partecipare da spettatrice a rituali antichi tornando indietro nel tempo se invece dovresti parlare nel presente personalmente non so cosa mi piacerebbe né vedere né fare con qualcun altro non so onestamente se mi piacerebbe fare dei rituali particolari con qualcun particolare con ruoli particolari oggi come oggi intendo perché finché ritrovarsi così cioè eventi tipici fra virgolette ad esempio la festa di beltania masserano per esempio quindi non ci sono andata però so che c'è e cioè finché ritrovarsi così alla fine non non so non è che cioè cose così specifiche intendo non mi attirano più di tanto oggi come oggi mi interesserebbe proprio di più vedere la parte antica di vedere la parte semplice popolare senza la parte anche dei sacerdoti perché comunque loro vivevano di quello ma proprio la devozione cittadina popolana semplice volgare diciamo così volgare nel senso di del volgo non volgare nel senso osceno e vedere questa devozione vedere come queste divinità che sono partite fra virgolette da niente nel senso che ovviamente come qualsiasi concetto si il concetto deve nascere prima di potersi sviluppare quindi vedere questo percorso di sviluppo e questa devozione appunto che percorreva le terre antiche possiamo dire così e niente e basta che ho finito qui e io vi lascio quindi qui noi ci vediamo la prossima settimana sempre di lunedì con nuovo video della witch youtube challenge io vi lascio un bacione e vi auguro buona giornata